Il mestiere della gente è tanto bello quanto complicato, soprattutto quando ci si ritrova con una società come l'Avellino che ti chiede da due mesi di trovare una sistemazione ad un tuo assistito, divenuto di colpo indesiderato, e allo stesso tempo di intavolare trattative in entrata per altri calciatori con i quali potresti realizzare un buon affare. È l'imbarazzante situazione che si ritrova a vivere l'avvocato Maurizio De Rosa che in Irpinia, oltre a rappresentare gli interessi di Canutè, alla procura di Francesco Forte, portiere finito fuori dal progetto bianco-verde e messo in lista di sbarco dal post-foggia. Operazione a quanto pare abbastanza complicata perché, dopo aver rifiutato Taranto, sperato in vano nel Cesena e declinato, malgrado le smentite di ieri, Gubbio, l'ex estremo difensore della Carrarese insiste nel voler andare in ritiro con i lupi. Diritto, per carità, che gli spetta per contratto, ma che non gli spalancherà di nuovo la porta dell'Avellino. Come imposto ad Enzo De Vito, infatti, il presidente Angelo D'Agostino è stato categorico sugli indesiderati che, se non troveranno sistemazione senza alcun incentivo all'esodo, potranno restare a girare il campo in Irpinia da fuori lista senza avere mai la minima possibilità di rientrare. Di conseguenza, a Mercogliano, oltre a Marcone, Pane, il partente Pizzella per la Serie D, Forte si ritroverà con davanti persino il portiere Petrone della Primavera. Una bella gatta da pelare per De Rosa, al quale De Vito a ieri sera ha chiesto notizie dei centrocampisti Armellino e Gerli, freschi di promozione col Modena di Tesserra, due top player della categoria che i canarini, almeno ufficialmente, reputano incedibili, esattamente come l'Avellino dichiara di fare con Jacopo Murano, titolare a sua volta di un l'auto biennale. Il sogno di Enzo De Vito, perché in questa fase, lo sottolineiamo, di questo si tratta di affiancare Armellino a Franco alla luce della tensione che si percepisce in questo frangente tra le parti, rischia pertanto di restare tale. Ma tant'è, nel frattempo, mentre si lima l'accordo con Aia della Regina, dopo le ultime ufficializzazioni di Auriletto e Russo, ci si appresta ad accogliere Moretti dell'Inter a titolo definitivo e non si mollano i baresi Scavone e Mazzotta. Tornando sul fronte delle uscite, sempre per lo stesso principio di non incentivare gli esodi, Massali sta trattando con Fiorenzola e Vispesaro, Ciancio con il Novara e Vincenzo Prescia con la Carrarese, che per assicurarsi Rex Vibonese deve però alzare di almeno altre 15.000 euro la sua offerta.